Quando un animale mangia una pianta, acquisisce l'energia che la pianta ha catturato dalla luce solare. Gli animali non esisterebbero se non ci fossero le piante. Se su un altro pianeta si sviluppassero creature come le capre o come noi, sono quasi certa che ci sarebbero anche delle piante. Le piante in questione però potrebbero non essere verdi. Le nostre piante sono verdi perché il nostro sole è verde. La maggior parte della luce che viene emessa dal sole ha una frequenza corrispondente al blu verde. Se noi non la vediamo di quel colore, il motivo è che la luce è caratterizzata anche da altre lunghezze d'onda, come quelle del rosso o del blu. Perciò, quando si mescolano tutte assieme, appaiono bianche. Quasi tutte le piante della Terra sono strutturate per usare primariamente la luce rossa e blu per attuare la fotosintesi. Riflettono la luce verde, per questo noi le vediamo verdi.